e ci siamo ragazzi nuovo food da parte della cina mercati crollano sì e no salgono non salgono insomma la solita questione legata alla manipolazione dei mercati critto un po troppo facile anche negli ultimi mesi nonostante la maturità del mercato un po noiosetta ragazzi perché sta diventando palesemente una cosa quasi organizzata sono uscite una serie di notizie negative e di cui veramente l'unica secondo me veramente di peso e quella che riguarda bianz per quanto riguarda il mercato italiano notizia scontata che già lo sapevamo cioè non è più possibile operare con i derivati in italia di bianz fino alla prossima regolamentazione quindi da adesso in poi si possono fare soltanto le chiusure delle operazioni sui derivati di bianz questa invece una notizia vera che riguarda la parte italiana mentre invece i cinesi tirano fuori queste notizie al sacco esce fuori una notizia sulla sui mercati del sul diciamo sui social e guardate cosa succede ve lo faccio vedere qui praticamente vanno giù tutte a picco le cripto sia a bitcoin che ethereum e di conseguenza anche tutte le altcoin quindi divieto della cina la cina banna le cripto ragazzi ho sentito questa roba veramente tante tante tantissime volte è vero non è vero magari succederà veramente cosa succede quando i mercati agiscono così andiamo a vedere adesso anche un grafico ragazzi però vi volevo parlare di una questione come agire come andare a proteggersi da questa questione legata alle manipolazioni ragazzi allora sui mercati delle criptovalute secondo me è impossibile che queste manipolazioni vadano ad essere eliminate nell'arco dei di pochissimo tempo ci vorranno anni perché questo è un mercato giovane perché un mercato che si presta moltissimo alla manipolazione in quanto non ci sono regolatori super partes quindi non abbiamo le banche centrali che vanno magari a mettere un freno un tampone è anche vero che gli exchange potrebbero fare trust tranquillamente bloccando un po queste situazioni ma a loro non conviene ragazzi perché più ci sono manipolazioni più ci sono movimenti sugli exchange e in volatilità sui prezzi più gli exchange stessi fanno dindini fanno cash perché perché loro guadagnano sulle commissioni in percentuale ai volumi scambiati quindi questa storia della manipolazione conviene a tutti quanti ragazzi a chi non conviene ai retail ai investitori retail e soprattutto i piccoli investitori perché se da una parte il piccolo investitore può fare anche esperienza di mercato utilizzando queste fasi come una fase in cui magari si può andare a fare le cosiddette palestra quindi andare a fare magari le proprie operazioni andare magari a comprare più in basso oppure avere diciamo la possibilità di capire se mettere uno stop più vicino al prezzo meno al di là di queste pochissimi vantaggi poi vantaggi legati alla formazione gli investitori retail da momenti di manipolazione del genere e non ottengono assolutamente niente se non addirittura peggiorano le proprie prestazioni perché da una parte incomincia la fase della spirale della paura entrano in un meccanismo emotivo e sostanzialmente vanno a sbagliare una serie di posizioni quindi vanno a fare probabilmente dei trade eccessivi vanno a chiudere posizioni quando non dovrebbero insomma ragazzi e il movimento come il la giostra che incomincia a muoversi e butta paura butta fear in generale più che pad addosso a tutti gli investitori come bisognerebbe comportarsi quali sono i miei consigli in questo su questo tema ragazzi ve li dico in questo video però prima andiamo a vedere un po le notizie andiamo a guardare un po la situazione grafica di bitcoin perché proprio sulla situazione grafica alla fine ragazzi si vede in maniera molto chiara che quello che è appena avvenuto praticamente è il classico buco nell'acqua se non diciamo che si va a creare una spirale negativa per gli investitori soprattutto piccoli che poi vanno a perderci i soldi perché sono sempre queste le cose allora intanto vabbè ragazzi è inutile che ci addentriamo sulle news voi sapete bene come io considero la news cioè assolutamente il nulla a meno che non ci sono cose radicali che vanno proprio a modificare quelle che sono le situazioni legate ai settori e delle cripto quindi vanno a modificare i cosiddetti investimenti al lungo periodo come è stato per esempio l'uscita di tesla dal mercato perché metteva un freno all'adoption degli istituzionali allora in quel caso sicuramente la news ha avuto un impatto evidente anche nei mesi successivi questo tipo di questione quindi regolatori cinesi che vogliono reprimere le cripto e poi non è vero perché poi esce fuori che praticamente questa cosa è vera non è vera non si sa non hanno alcun impatto se non quello di manipolare il mercato ma andiamo da vedere per esempio con la questione legata ai grafici questo è il grafico che vi ho mostrato lunedì aggiornato anche nella giornata di mercoledì intanto caccio questa super freccia anche perché secondo me porta anche male ragazzi quindi io la freccia la tolgo perché non lo voglio vedere allora allora vedete cosa è successo qui ragazzi il mercato la giornata di oggi è andato in sostanza a fare uno swing di ribasso che è andato a testare i minimi che aveva creato nel nei giorni scorsi cioè questi qui è andata a testare ora fin tanto che questi minimi tengono ma tra le altre cose anche oggi possono anche essere aggiornati un pochettino non cambia niente con la nostra visione classica diciamo questa raffigurazione questa manipolazione così creata è una semplice oscillazione di prezzo che guardate qui quindi è uno swing a rialzo un swing a ribasso che ancora non è terminato che ha un solo compito ragazzi notizia sì notizia no ma il compito di questa oscillazione è quella di andare a testare se i precedenti minimi che sono stati fatti oggi nella giornata del 22 di settembre reggono o no se i minimi reggono il mercato può costruire nei prossimi giorni la sua fase rialzista proprio da questa candela questo è il senso generale quindi in pratica queste news queste food queste cose a cosa servono ragazzi beh a nulla in pratica vengono inglobate dai mercati dai prezzi cioè i prezzi le inglobano le notizie perché poi un marasma di notizie positive negative vanno a creare quello che è il cosiddetto equilibrio di mercato quindi questa notizia ci ricorda che la cina è avversa ai mercati cripto ma va lo sapevamo già non è che era una novità però se lo ricorda e quindi dice al mercato è state volete salire ma ricordatevi che la cina farà un ban farà sarà stretta sulle regolamentazioni che è vera allora che cosa cambia nulla è una notizia che già ascoltato il mercato già la sa quindi il prezzo si riequilibria magari un poco va giù poi alla fine un 5 6 per cento quindi non è neanche una grande oscillazione per i mercati cripto ma poi probabilmente il giorno dopo cade nel dimenticatorio e finisce lì cosa diversa invece se il ban assume una proporzione veramente imponente quindi se il ban diventa realisticamente vero allora la questione poi può modificare un po la struttura e l'assetto dei mercati così come è stata la questione legata ad esempio al mining e spostato in nord america per lo più quando le mining farm sono state chiuse dalla dalla cina allora come bisogna andare a considerare queste cose momenti di buy molti dicono ok c'è stata la manipolazione io vado compro allora ragazzi intanto dividete i due ruoli l'investitore dal trader parliamo prima dell'investitore perché è quello che secondo me ne risente di più da manipolazioni del genere l'investitore piccolo investitore grande abituato investitore che esperienza più di 3 4 anni su questo mercato è abituato ma l'investitore piccolo investitore piccolo no e allora ragazzi cosa deve fare intanto andare a ragionare sulla questione che le news non hanno alcun impatto sui mercati nel lungo periodo a meno che non vadano a modificare come vi sto dicendo la l'assetto quindi proprio la struttura stessa del mercato domanda e offerta no quindi se è una notizia è una notizia bomba che va a modificare per esempio il numero dei delle persone che vogliono comprare bitcoin la questione tesla per esempio per gli istituzionali allora si modifica la struttura del mercato quella news ha un impatto nel medio lungo periodo ma una del genere cioè il classica manipolazione non ha nessun impatto può averlo nel breve ma nell'arco di pochi giorni tendenzialmente verrà riassorbita dal mercato quindi intanto tranquillità perché questo tipo di news imparate a riconoscere la differenza fra una news che modifica domanda e offerta ragazzi ragionate solo così due punti il resto fuffa buttate via tutte quelle che sono le fanfare e il gossip dei mercati investitori ragionate solo sull'equilibrio del mercato manda offerta la news che modifica il prezzo solo una news che modifica domanda e offerta basta il resto è fuffa va bene nel breve ha effetto ma nel lungo non ce l'ha va bene quindi a voi interessa il lungo siete investitori quindi non andate a ragionare da questo punto di vista quando arrivano queste news tranquillizzatevi e ricordatevi che è manipolazione se invece i regolatori dicono ok banno e lo fanno davvero quella modifica la domanda e quindi ciao ciao prezzo quello scende ok quindi andate un po ad approfondire e dite ok questa notizia è vera soprattutto viene è stata fatta davvero sì o no perché se viene fatta davvero ragazzi succede un disastro poi se non viene riequilibrata magari d'altre d'altre cose da altre notizie che vanno a implementare una nuova domanda va bene allora poi seconda cosa andate a ragionare se soffrite il livello motivo andate a ragionare se avete investito troppo sui mercati perché probabilmente se siete investitori da poco siete neofiti avete messo troppa carne al fuoco cioè avete messo troppi investimenti nell'ipotesi che i mercati salgano e basta un po questo è un errore comune che fanno tutti diversificate gli investimenti mantenete un po di liquidità dividete gli asset non utilizzate solo critto andate a utilizzare anche altri tipi di asset perché vi fa stare un po più sereni ricordatevi che è un investitore oltre al capitale quello che utilizza anche il cosiddetto capitale motivo capitale motivo che spesso e volentieri viene poco considerato ma è che il più importante per voi perché vi fa stare nel momento giusto al posto giusto alla fine la bull run di bitcoin delle cripto ragazzi noi l'abbiamo vista in pochi mesi ma l'aspettavamo da tre anni chi c'era in quel momento l'investitore che aveva il giusto capitale mentale ha insomma mantenuto quello che era riuscito a sopravvivere a tutta la fase di queste notizie di questo di queste fear di queste paure di questi vortici emotivi che vi vanno a coinvolgere quindi proteggete il capitale emotivo se vi sentite troppo esposti riducete l'investimento terza cosa non usate la leva ragazzi ok non usate la leva soprattutto se siete investitori da pochissimo tempo se la usate usate la solo a modi formazione purtroppo la leva non vi avvantaggia perché quando arrivano questi tornato vi spazzano via il conto con una leva 100 un meno 6 e ragazzi ok non vi lascia più spazio una leva 10 meno 6 e meno 60 con una leva 100 vi hanno già chiuso il conto in quattro minuti allora ricordate questa cosa quando andate lì a fare l'operazione se volete fare in leva ricordate che ok non è un modo di investire quello quello è trading quindi dovete avere le spalle coperte ricordate quello che sta tricchiato eccetera i trader invece in questo tipo di logica allora il trader speculativo di breve periodo ci va a nozze perché ottiene un bellissimo by the deep in questo punto il trader di medio periodo perde e inesorabilmente anche lui perché una oscillazione del genere ovviamente ti blocca qualsiasi forma di operatività quindi in sostanza abbiamo tre figure investitori di lungo periodo deve fare niente non si deve preoccupare deve solo stare lì si beve lo sprizzetto a con l'aperitivo e sta tranquillo questi tipi di news non vi toccano non andate a considerare andate a vedere solo quello che vediamo noi lunedì cioè i grafici guardate questo movimento come è un testing di quest'aria di supporto se regge lo dovremmo vedere perché se poi ci ha dato adesso un livello di resistenza lo vediamo lunedì ragazzi ok quindi iscrivetevi sul canale se ancora non l'avete fatto questo è un primo livello di resistenza da da breccare se lo fa inverte il trend di breve quindi questa è quello che vi deve interessarsi siete investitori di lungo periodo quindi volete essere un po sul petto andate a guardare solo questa cosa fate niente per i trader di breve quelli vanno a nozze stanno sul grafico tutto il giorno i trader di me non c'è soluzione diversificare l'unica soluzione perché se avete le posizioni aperte per esempio un po di tempo per stare una settimana due questo tipo di oscillazioni vi mangiano poi i profitti e non c'è tipo di soluzione a questo va bene allora ragazzi vi ho dato i miei tips i miei consigli e vi ho spiegato anche un po quello che sta succedendo secondo me questo tipo di questione verrà riassorbita domani dopo domani tra l'altro c'è il weekend sabato e domenica il solito probabilmente sabato si sale domenica si scende avete visto questo bias dei mercati vediamo chi di voi l'ha notato e soprattutto ma c'è un modo di sfruttare un bias come quello della domenica è possibile come facciamo a calcolarlo c'è o non c'è un bias la domenica possiamo aprire ad esempio una posizione la domenica alle 2 quindi a 00 tc e poi chiuderla in un certo modo perché si ripete c'è questa cosa poi se volete me la bella mostro ragazzi scrivetemi nei commenti però sarà un video iper tecnico perché fatto solo di analisi quantitativa però insomma ragazzi probabilmente questa news secondo me verranno riassorbite non vi fate prendere dal panico a me andate in stop una posizione di medio oggi purtroppo sempre la stessa questione non funzionano bene i sistemi di medio negli ultimi periodi preferisco quelli di breve e sui discrezionali invece quelli lunghi vanno normale per la loro strada va bene ok ragazzi quindi vi ho dato i miei consigli mi raccomando applicateli non vi fate prendere la paura non vi fate fregare da queste questioni ok buon weekend ciao a tutti